Innanzitutto il suo stato d'animo dopo l'ufficialità alla sua candidatura. Beh diciamo c'è orgoglio e anche responsabilità che hai sulle spalle perché insomma c'è il compito di portare alla vittoria milioni di persone che credono nel centro-destra che non vogliono essere governati da una sinistra che si è dimostrata assolutamente settaria e che quando ha governato non ha dato buona prova di sé. Quindi insomma spero di essere all'altezza di questa battaglia. Sono passati otto anni dalla fine della sua esperienza alla Regione Lazio. Che cosa vuol dire questo che sia ancora lei il candidato? Che in otto anni il centro-destra non è riuscito a produrre anche una personalità forte come la sua? Diciamo che il centro-destra ha voluto rendere onore, questa fu l'oliva dichiarazione di Berlusconi, anche al senso di giustizia. Io quando sette anni fa, 2013, otto anni fa, ragiona lei, persi le elezioni, cadde a 15 giorni dal voto quello che allora fu definito uno scandalo, Lazio Gate, che caratterizzò tutta la fase finale della campagna elettorale, portò alla sconfitta. Sette anni dopo quel processo ha dimostrato che il fatto non sussiste, cioè lo scandalo non sussisteva. Adesso il centro-destra ha voluto dirmi torna lì, apri la finestra e chiedi ai cittadini dove eravamo rimasti. La sua candidatura è arrivata dopo un periodo travagliato. Si può dire che alla fine il braccio di ferro ha vinto lei con Alemanno e oltre a questo le chiedo cosa succederà anche con Fratelli d'Italia, se alla fine ci sarà il rischio di Sicilia con un altro candidato. Guardi, con Alemanno c'erano punti di vista diversi. Lui preferiva puntare su un candidato a società civile. Però tutti abbiamo detto, verifichiamo con i sondaggi, visto che non si soppure fare le primarie, né da questa parte del campo né a sinistra, perché Zingaretti non è stato scelto con le primarie, ma con uno spostamento di poltrone dalla provincia al comune e poi alla regione. Noi siamo affidati ai sondaggi che hanno dato un esito diverso rispetto a quello che si poteva immaginare, perché in quella che viene definita una guerra lampo bisognava puntare su chi era più conosciuto. Questa notte ho ricevuto un messaggino da Alemanno molto bello, ho ricambiato con altrettanta simpatia, adesso credo che si combatterà tutti uniti, anche con Fratelli d'Italia, perché c'è stato un problema di comunicazione dal PDL verso di loro, credo che sarà una ferita rimarginabile facilmente. Insomma, sarebbe sbagliato non combattere insieme, non ci sarebbe motivo. Lei crede nella rimonta? Beh, se sono veri i sondaggi che abbiamo visto oggi, anche nelle varie trasmissioni che ci sono stati, con quei 7-8 punti di differenza, nel 2000 io partì contro Badaloni con 18 punti di differenza. 8, insomma, è ben oltre la metà dell'opera. La campagna elettorale è già iniziata, i toni comunque sono abbastanza forti. Il centro-sinistra, insomma, sulla sua candidatura ha detto che è tornato misteri 10 miliardi, alludendo alla situazione finanziaria che lasciò dopo il 2005. Che cosa risponde? Diciamo che non è una scarsa fantasia, o memoria. Perché ad esempio hanno dimenticato, ma io l'ho rinfrescata nella memoria, sul giornale d'Italia Online nei giorni scorsi, in un articolo in cui ho elencato 9 miliardi lasciati da Marrazzo ai cittadini del Lazio, aumentando anche le tasse, i 12 miliardi lasciati ai cittadini di Roma. La differenza è che loro con quei soldi non ci hanno fatto nulla. Noi, oltre che a garantire la salute, abbiamo aperto ospedali, uno su tutti in Sant'Andrea, ma potrei elencargliene una lunga serie che servirebbe più tempo per l'intervista. E con il suo giudizio sul rivale principale, Zingaretti? Zingaretti è una persona che sicuramente è garbata nei modi, anche gioviale da questo punto di vista, quindi credo che ci potrebbe essere un confronto abbastanza civile, è una condizione che non si dicano bugie, perché altrimenti sono costretto a patire la verità. Si è cominciato male da questo punto di vista l'accoglienza nei miei confronti, e spero che lui diano raddrizzate i suoi. Noi dobbiamo parlare con chiarezza ai cittadini del domani della Regione. Io posso raccontare anche tante cose belle che abbiamo costruito in quei cinque anni e non è casuale che tanti cittadini abbiano detto finalmente quando si è sparsa notizia della mia candidatura. Lui vorrà raccontare, non so cosa, della provincia, lo vedrà lui, è stato deputato europeo, però ci confronteremo. Due emergenze per la Regione Lazio fortissime sono la sanità e i rifiuti. Cosa ci sarà nel suo programma a riguardo? Io non trascurerei il tema del lavoro, ma il lavoro riguarda tantissime persone. Non trascurerei la questione dei comportamenti della politica, la sobrietà da recuperare. Io ho lanciato quell'idea che non ha fatto a Banzana via le auto blu per la politica e la burocrazia. Lo faremo se saremo letti al Governo della Regione. Poi certo ci sono le questioni sostanziali. La sanità ha bisogno della politica di territorio. È sbagliato dire via gli sprechi, perché non ci sarà mai nessuno che dirà voglio gli sprechi. Quello è normale, non è che può essere quella l'idea. Bisogna abbattere i costi inutili. Bisogna incentivare la sanità di territorio, evitare che il cittadino sia costretto ad andare in ospedale. Questa è la grande sfida. Poi bisogna fare prevenzione. Io ricordo, a questo proposito, anche grandi campagne, ad esempio quelle sul sangue, la trasfusione, questa fu una regione pilota. Bisogna ritornare a fare cose importanti per i cittadini. Le politiche dei rifiuti è chiaro che hanno bisogno di una svolta. Io ideologicamente sono portato a dire mai più i rifiuti sottoterra, perché inquinano l'ambiente in cui viviamo. Ci vogliono impianti salubri e la possibilità di incentivare raccolta differenziata. Da certo vanno trovate le risorse, vanno sostenute le amministrazioni che sono pronte a fare questa parte. Ci sono soluzioni emergenziali sulle quali dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Poi c'è il trasporto, c'è il sociale. Ne ha dei problemi in questa regione, però ci sono anche gli uomini che li possono risolvere. Il Tarro oggi ha una sentenza portata a 50 in uno dei consiglieri da 70 nella regione. Se non cambierà questa situazione, quindi arriverà a 50, quali saranno le differenze anche a livello politico? Intanto si risparmiano 20 stipendi e non è poco. Anche qui. Il Lazio è stato messo all'indice come la regione dello scandalo. Oggi è l'unica istituzione che riduce i suoi esponenti. 50, in Sicilia si è votato con 90, si va a votare il Parlamento per mille deputati e senatori. Già questo dà la cifra di una differenza. E qui va dato merito alla Polverini. La Polverini non ha sentito ragioni. Ha detto 50 consiglieri, non 70. E su questo credo che bisogna dargliene atto di una coerenza di comportamento. E oggi la giustizia amministrativa le ha dato ragione. Cosa cambia? Non c'è solo una sala consigliare più ampia per i consiglieri. C'è sicuramente la possibilità di garantire a ciascun consiglio di poter lavorare bene senza il caos di una concorrenza che troppo spesso è smutata. Perché ognuno si fa la guerra all'altro. Non ci sarà bisogno di far proliferare le poltrone. Ci sarà possibilità di dare meno incarichi. Insomma, si ricondurrà un rapporto più civile tra politica e società le cose da fare. Per chiudere le chiedo, due consiglieri che fecero iniziare poi lo scandalo fiorito, sono i due consiglieri radicali che rischiano di restare fuori. Non è stato trovato un accordo con Zingaretti e neanche Rivoluzione Civile di Ingroia. Pensa che anche indirettamente possano essere degli interlocutori per voi? Io tradizionalmente, anche se siamo all'opposto come idee politiche, pensiamo alle questioni che riguardano la famiglia, al diritto alla vita, io credo nella forza del diritto naturale, loro l'avversano. Però si è avuto un rapporto, diciamo, culturale intenso con i radicali. I giorni scorsi Marco Pannella ricordava quello che dissi da Presidente della Vigilanza Rai sul genocidio politico della cultura radicale da parte della Rai. Quindi, insomma, c'è un vissuto da questo punto di vista. E mi ha meravigliato molto che chi ha fatto l'opposizione insieme e si candida a governare adesso sia separata, perché ingroia da una parte, i radicali dall'altra. Cioè, Zingaretti non ha più alleati. Allora, ho detto ai radicali, guardate, non vi chiedo di votare per me. Non vi chiedo nemmeno di condividere il mio programma, perché siamo alternativi. Però se vi serve un apparentamento tecnico, per non far mancare la presenza radicale in Consiglio regionale, io sono disponibile. Poi, ognuno va per la sua strada. A costo di rinunciare a un seggio di maggioranza. Però penso che si possa fare questa cosa. Poi, se a loro decidere cosa vogliono fare, io, insomma, voltarianamente, come si dice Voltaire, gli indicava una strada, quella di battersi perché il proprio avversario potesse avere il diritto di manifestare le proprie idee. Io ci sto su questo terreno. Bisogna vedere se loro accettano. Vi chiedo l'ultima cosa. Ottimista? Ha un poco più di un mese? Dalle votazioni? Ma, realista. Vedo il numero delle telefonate. Mi sto scusando con tutti che non riesco a rispondere a ogni messaggio, a ogni telefonata. Molte passano sul telefonino. Poi richiamo tutti. Perché io sono uno che non ci sta a dare il telefonino a un proprio segretario. Voglio rispondere personalmente a tutti. Anche il giorno dopo, anche due giorni dopo, ma li devo richiamare. Quindi questo costa fatica, però lo faccio volentieri perché ho la soddisfazione di vedere che c'è di nuovo la speranza di vincere.